Un vasto incendio è scoppiato nella notte a costa di Mezzate, alla ditta di trasporto Pezzotta Saul, nel Bergamasco. Una vasta colonna di fumo si è alzata dall'abitato e le operazioni di spegnimento sono proseguite anche durante la mattinata. 19 i mezzi dei vigili del fuoco impegnati nel domare le fiamme, che hanno coinvolto anche i capannoni adiacenti a quelli della ditta di trasporti, che risulta completamente bruciato e avvolto dal fuoco. L'intera struttura e tutti i mezzi che erano all'interno sono andati distrutti. Le fiamme erano altissime e le volte di fumo nere enormi visibili a chilometri di distanza. Sul posto sono rimasti impegnati per ore i vigili del fuoco di Bergamo, del distaccamento di Orio Alserio, del distaccamento di Dalmine, i volontari di Treviglio, i volontari di Romano di Lombardia, i volontari di Madone, quelli di Gazzaniga e in supporto anche i pompieri da Brescia, Gorgonzola, Monza e Lecco. Non risultano feriti. Secondo le prime impressioni dei vigili del fuoco potrebbe essere stata una scarica elettrica a provocare l'incendio. A causa del vasto rogo una nube di fumo si è alzata in vaso i cieli transitando verso la Valle del Luio. I sindaci dell'area hanno diramato un invito alla popolazione a tenere chiuse le porte e le finestre in attesa di nuove indicazioni da ARPA.